Allora, la patelletta è una cosa assolutamente personale, non c'è una patelletta metodologica nell'altro. Io uso questa che è Bare Max, che è la migliore. Massimo, quando è che me ne mandi una gratis per piacere? Il produttore delle patellette. Io consiglio questa, mi trovo veramente, a parte gli scherzi, io con questa, che purtroppo non si trova più in giro, però probabilmente mi costa un po' cara, il prezzo è un po' elevato. Dovrebbero esserci anche i ricambi, addirittura, non mi trovo molto bene, ha una piastra abbastanza pesante, che mi fa sentire la patelletta bene, ho tolto il secondo elastico, non mi serviva, mi trovo bene così, ha un buon distanziatore, che mi serve a non farla muovere la patelletta, e con un elastico solo è più che sufficiente a non farla muovere. La pelle è straordinaria, la pelle è già trattata, non si bagna, non c'è bisogno di trattarla, penso che sia un cordova, o comunque una goppa di, non di cavallo, di vitello, molto buona, io ci ho già tirato 30 o 40 mila frecce, con questa patelletta e ancora ci tiro, quindi dura abbastanza. Sì, ha solo una distanziale che serve a non farla muovere la patelletta, è essenziale questo, è essenziale che ne ancoraggia, non ti deve muovere, questa parete sta ferma la patelletta. E con questa mi trovo bene, due strati belli spessi, io, poi avete visto come prendo sulla corda, io prendo sulla corda con tutte e tre le dita, con una presa forte.